mamma mia mamma mia questa è un'agonia basta fischiate fischiate per favore fischiate ucraina zero italia zero per adesso calma non voglio attenzione attacca l'ucraina o mio dio non ci posso credere fallo no l'arbitro non fischia per fortuna mamma mia questa è un'agonia questa è un'agonia basta fischiate ragazzi questa è la dimostrazione di come le pratiche vanno chiuse prima ragazzi queste robe vanno chiuse prima ti ritrovi in una partita ultima in una partita dove hai solo che da perdere con una con un ucraina che oggi non ha giocato male con un ucraina che ho già spinto tanto dove le sofferenze ci sono state ragazzi mamma mia l'italia non ha giocato male non sto rimproverando la prova all'italia però ragazzi rimprovero questo arriviamo a 13 punti pari all'ucraina e a 5 minuti alla fine perché ora l'arbitro ha dato 5 minuti recupero rischi di non andare all'europeo rischi di non andare all'europeo ragazzi un'agonia quello voglio dire queste pratiche vanno chiuse prima perché se tu anche ti prendi due punticini in più nel girone non so come non so chi ma te li prendi ste partite poi non le va a soffrire così non le va a soffrire così ci vanno con una tranquillità maggiore per cui ragazzi la mancanza di punti ha portato quest'italia secondo me oggi comunque a fare una partita più di sacrificio una partita più difficile dove sicuramente noi tifosi abbiamo sofferto molto di più partita che non è ancora finita è entrato malinoschi qualche minuto fa siamo al minuto 90 è stato assegnato che recupero di 5 minuti ragazzi una partita veramente 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 tosta non mi aspettavo questa questa prova da parte dell'ucraina cioè mi aspettavo sicuramente una prova difficile ma aspettavo un'ucraina che provasse a spingere tutto però alla fine dico è l'italia secondo me alla fine ce la farà assegnare ce la farà nel senso a trovare la quadra e la partita giusta invece l'italia secondo me fa una buona partita però caratterizzata anche da alcuni problemi comunque quando entravo scamarca tenuto su pochi palloni si poteva far meglio si poteva gestire meglio la parte in alcune situazioni ora stiamo giocando diciamo con la doppia punta scamarca ken ragazzi c'è sofferenza nei volti nei volti anche qua di cici buffon ragazzi siamo in un momento di seria difficoltà perché comunque a 3 minuti e 30 un europeo che comunque per ora non è scontato perché visto come sta andando la gara non è affatto scontato fino a che l'arbitro non fischia la fine vediamo un po attenzione rinvio del difensore l'ucraina riesce a liberare ben acerbi palla ancora sulle loro teste mamma mia mamma mia mamma mia ancora l'ucraina oddio mio fischia che fischi e 2 6 92 si è 95 si o quasi arrivare altri tre minuti di sofferenza attaccano attaccano attacca l'ucraina mi viene da dire macedonia che pure non c'è evocato ben ricordi attacca l'ucraina attacca l'ucraina grossi mezzo va giù muric per terra l'arbitro non ha fischiato il rigore per adesso non so ragazzi se è simulazione lo spero lo sia o mio dio io credo non ci sia il calcio di rigore credo non ci siano bisogna vedere se cristante lo ha veramente toccato bisogna vedere no non c'è stato nessun controllo vario non è calcio di rigore mamma mia quando l'ho visto per te ho detto adesso lo fischia ero quasi sicuro fischiasse per fortuna continuo ad attaccare loro questa è una sofferenza basta 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 ragazzi ci giochiamo una parte d'estate qua perché comunque l'europeo gli amici a vedere la partita è bello e non voglio perdermela sta roba grossi in mezzo vediamo un po rimessa al fondo calma 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 ripeto una partita a me l'italia giocatori mi sono piaciuti chiesa c'è da dire che spinge molto è un valore secondo me è aggiunto lì in attacco e comunque ti fa capire che faccio dovete dire che drill è un calciatore che mette in difficoltà comunque le difese certo zagnolo può fare qualcosa in più come lo può fare a spadori anche se la sparo che la scorsa partita ha giocato bene con grazia un italia che deve fare molto di più non può arrivare così all'europeo perché comunque l'europeo beccherà i squadri affamate si è arrivata a seconda nel girone prenderà i squadri forti affamati che comunque hanno voglia di far bene nell'europeo intanto spalletti a braccia aperte ragazzi non si capisce ma di chi è la rimessa di chi è dai dai 45 40 secondi non si può prendere un gol in 40 secondi dai su non lo prendiamo dai rimessa per l'ucraina mamma mia non abbiamo tenuto una palla su non abbiamo tenuto vediamo un po se l'ucraina fa l'ultima azione rimbio non c'è nessuno bravi di testa a staccare attenzione ancora l'ucraina che attacca eddi marco palla su donna rumma donna rumma donna rumma dai la tiene stretta la tiene stretta cinque secondi cinque secondi quanto manca quanto manca quanto manca fischia sta fine fischia sta fine basta rimessa laterale per l'ucraina fischia sta fine fischia oh devi fischiare è finita mamma mia mamma mia fischia fischia altro pallone in campo le palla lunga ancora attenzione acerbi di testa attaccano ancora loro 1 2 il destro donna rumma su una deviazione adesso è finita mi sa e adesso è finita mamma mia una sofferenza fino all'ultimo fischia fischia 5 45 vediamo un po mi sa che è finita l'italia mamma mia ragazzi fortù chi è che si è emulato su quel tiro buongiorno chi è no no chi è non so manco io chi è rinvio e fischia alla fine siamo agli europei siamo agli europei siamo agli europei calma mamma mia obiettivo minimo visto il girone ma sono contento sono contento ho sofferto tantissimo ho sofferto contento per il mister spalletti contento per l'italia ragazzi però la pausa nazionale fortunatamente finisce qua e ritorna la nostra amata seria tanti contenuti iscrivetevi al canale seguite i social dai